Oggi, adesso, in questo preciso istante, subito dopo aver visto questo video, questo è il momento perfetto. Troppo spesso ci troviamo a continuare a rinviare progetti, situazioni che vorremmo avere nella nostra vita con la scusa che la situazione non è ideale, le condizioni non sono perfette. E ci dimentichiamo che la perfezione non esiste, ma soprattutto ci dimentichiamo che nulla può essere perfezionato se non è già là fuori. Nessuna decisione può essere migliorata, nessun tiro può essere aggiustato se non abbiamo già presa la decisione, se non ci stiamo già muovendo. Senza contare che più restiamo immobili, più rinviamo in attesa che arrivi la condizione ideale, più la paura ci paralizza. Il gioco è praticamente matematico, più stiamo fermi, più ci paralizziamo, più ristagniamo. Più ci muoviamo, più prendiamo il coraggio a quattro mani, più il coraggio aumenta, il coraggio di continuare. Perché ci accorgiamo che in fin dei conti siamo molto più forti di quello che pensavamo di essere. Quindi qualunque cosa tu stia rinviando da tempo, da giorni, mesi o addirittura anni, falla adesso.